attento a sbattere attento attento ok ci siamo alzati si è arrivata quanto cibo ok piano piano adesso mangio io ok tutto posso mangiare? no qui ci sono anche le cose come per i bambini bambino guarda guarda questi ti piacciono? quale si prende? rosa ovviamente e rosa deve essere questo? si tieni rosa poi possiamo vendere la banana mettete anche le acciughe mi piacciono molto cioè piacciono al bambino buon appetito grazie già buono oddio leo cosa mi scappa la pipì diamo il bagno subito hai di là oddio leo corri 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 si scusate dove pensate di andare perché? in bagno non lo vedete che cosa c'è scritto qua? bagno guasto e quindi? non può farsi la pipì addosso come facciamo? devo andare in bagno linda andate alla casetta però ti vedo troppo tranquilla dai su in che senso devo andare in bagno? linda cosa dovevo fare? questa è la sfida di se ti vedo ben troppo tranquilla uno skateboard? si è uno skateboard ma è incinta come fa? io non ci so andare ma è una cosa semplicissima guarda oddio aspetta ti arrego io proviamo allora metti tutti e due i piedi ok perfetto ora proviamo ad andare davanti e non gira leo non giro devi inclinarti devi inclinarti ma non ce la faccio leo puoi mi scappa la pipì devo andare in bagno ok andiamo a piedi scendi senti linda noi andiamo a piedi va bene? ok andate ma sbrigatevi qua troviamo da mangiare queste sono caramelle però sono pure non so se avviene questo è perfetto è rosa direi di qua ok va bene va bene anche questo è rosa di rosa anche i tu ci possono usciare questo ok oh stanno tutti qua ciao no state venuti a compare acquisti vedo sì esatto anche noi anche noi anche voi emm il cioccio rosa no ma per chi stai prendendo la frase rosa? io guarda queste scarpette no queste ne voglio io no 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 se ne voglio non stare no però sono più belline quelle lì no sì ma non è giusto facciamo uno scambio no 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 basta ok dovete sempre litigare allora ok voi prendete questo secchiello tenete e poi quest'altro dovete raccattare tutta la roba in terra e chi prende più roba via aia 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 dovete mettere lì sopra il cavolo poi a chi è? non pare fermi aia aia basta abbiamo chiaramente d'interno no guardate qua ferma ok tanto possiamo contare dopo tutto bene tanto sei 29 esattamente guarda esattamente esattamente mi giro la testa eh scusate ma almeno sapete se il bambino è un maschio o una femmina ovviamente il mio è una femmina per questo questo è la nostro no esatto no io vedo questo c'è una mia collega sempre in questo appartamento dritto a sinistra è un infermiere può dirvi se il vostro bambino è maschio o femmina e quando partorirete ok andiamo noi prima noi prima noi prima eva eva che ci fai qua oh mio dio ciao ragazzi quindi oh no tranquilli va tutto bene ciao Tommaso ciao non siamo venuti per te si non vi preoccupate siete una bella coppietta e sei anche incinta Charlotte si si ok tutto a posto avete bisogno di un controllo giusto? si devo sapere se è maschio o femmina posso saperlo? ah prima di tutto controlliamo la temperatura e invece io e lei? aspetta solo il bambino voi non importa ok ok stai calma tutto bene? si si perfetto così ok quindi dovete sapere se è maschio o femmina si si lo scopriremo subito tranquilli dovete prendere questo mio palloncino vieni la fai? si si quindi io lo tengo voi lo scoppiate ok sei pronto Tommaso? e capirete se il vostro figlio è maschio o femmina ok ok pronto? 3 2 3 1 è maschio 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 che bello ma ho preso tutte le cose rosa vabbè è maschio è maschio è maschio vabbè vabbè top ok ehm si è maschio tutto ok eeeh volete sapere qualcos'altro sulla gravidanza? quando? quando partorirò? va bene lo scopriremo vieni qua Charlotte cosa devo fare? dammi il braccio cosa? ok se viene fuori 16 vuol dire che dovrai partorire adesso cosa? e beh si ok oddio 16 quindi? non ti preoccupare tutto ok tranquilla dovrai partorire ora quindi Tommaso tu te ne devi andare no Tommaso no 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 perché lei deve partorire sì io non posso partorire non puoi stare qui ok va bene va bene ok ciao è l'ora di andare vai ci vediamo ciao Tommaso dopo ok tranquilla è tutto ok partorirei sì sono in buone mani certo partorirei andrà benissimo però non partorirei cosa? vieni attenta come attenta? dove stiamo andando? vieni Charlotte però stai attenta sì sì ok così si sai? ok allora vieni qua sali e legati la cintura ma come faccio a legarmi con la cintura? ci sono ok attenta al bambino sì sì mi dito te di legare la cintura ok ci sono ok ci sei? ci sono ci sono ok la porta sei contenta che adesso scopriamo se il maschio? sì che bello vederti ciao Ila ciao Leo tutto bello? sì sì anche sei incinta? già è venuta prima Charlotte giusto? eh sì puoi dimmi se è maschio o femmina il suo bambino? beh queste sono informazioni private quindi non posso dirtelo mi piace ok e sì dobbiamo scoprire se è maschio o femmina ok allora prima di tutto controlliamo la temperatura al bambino tutto perfetto nell'alarma va bene così ok quindi dovete sapere se è maschio o femmina già sì perfetto allora vi do questo palloncino e dovete scoppiarlo ok e poi riuscirete a capire se è maschio o femmina ok ok 3 2 1 è femmina è rosa è femmina Leo sì oddio te aspetta 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 abbiamo ragione quindi è femmina perfetto e adesso cosa dobbiamo fare? vi resta di sapere tra quanto dovete partorire giusto quindi vieni qua Ila dammi il braccio ok oddio 16 lo sai cosa vuol dire 16? no che devi partorire adesso adesso? sì Leo adesso quindi se ne devi andare perché lei deve partorire ora in questo momento Leo però così diciamo meglio così è vero vai veloce tranquilla Ila andrà tutto bene però anche te non dovrai partorire qua no non puoi partorire sul letto non posso partorire ok? vieni Ila oh mio dio Eva mi fa malissimo la schiena ok non ti preoccupare ora andiamo e mi raccomando anche te lega la cintura sennò il bambino può farsi male ok ci sei? sì ok andiamo ok Charlotte aspetta qua un attimo che stai facendo? ti do questa pasticca ma è verde ma cosa fai? sì ma non ti preoccupare non voglio mica ti farà sentire meglio sei sicura? partorirai meglio non ti preoccupare dovrebbe farti sentire meglio ecco ok mi sento più rilassata esatto tranquilla benissimo e a dormire ok adesso questo non serve ecco il bambino controlliamo se è maschio o femmina è un maschietto portiamo questo bambino e nascondiamolo non puoi lo lasciamolo qua ok nascondiamo questa altra volta lasciamola dormire profondamente Ila arrivo Ila forse lei non ha neanche bisogno della pasticca meglio così allora questo togliamolo e il bambino eccolo ecco il bambino la bambina è una femmina ok Ilaria tutto a posto adesso chiamiamo Leonardo Leo Leo vieni avete vinto sei Ilaria lei ha partorito sì dai vieni porta tutti vai Ilaria Ilaria avete vinto hai partorito Ilaria svegliati guarda il bambino la bambina abbiamo vinto sì sta arrivando Leonardo che bella bambina che è ma l'avete scelto il nome? eh ancora no Ila Leo abbiamo vinto? sì che bello e il nome come lo chiamiamo? non so Leon ci stavo aspettando questo decidete non lo so Viola 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 perfetto va bene si chiamerà Viola Charlotte ehi svegliati ehi Charlotte dov'è il bambino? non l'hai ancora partorito? cosa? c'è la mancia scusa com'è possibile? eh mamma mi ha detto dov'è il bambino? Tommaso dov'è il bambino? cos'è? vanno uscita dov'è? non c'è non c'è il bambino abbiamo perso il bambino Tommaso hanno vinto loro Ilaria e Leonardo loro hanno vinto non ti posso capire non ah chissà non c'è